Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Paola e Chiara, il ritorno della famosa coppia musicale che ha condiviso lo stesso uomo per quattro anni. Dopo un periodo di separazione artistica, le due sorelle sono tornate a esibirsi insieme, ma con una nuova consapevolezza e maturità. Chiara Jezzi ha rivelato che il periodo di separazione è stato doloroso, ma necessario per crescere e evolversi. Le parole di Chiara riflettono una certa ribellione e la consapevolezza dei rischi legati al successo. Entrambe le sorelle hanno vissuto un periodo turbolento, che le ha portate a condividere lo stesso uomo, ma ora guardano avanti e hanno superato quelle difficoltà. La tentazione di ripercorrere il passato è presente, ma entrambe sono consapevoli che quella fase della loro vita è ormai superata. Chiara sottolinea che l'arte attinge dalle esperienze personali, anche le più intime, e che è importante evolversi e guardare al futuro. Paola e Chiara hanno affrontato insieme momenti difficili, ma sono riuscite a superarli e a tornare più forti di prima. La loro storia è un esempio di crescita e maturisca che portano alla ripora del loro collage.